Debutta al cinema nel 1981 in onore guaparia di Tiziano Longo. In televisione, debutta su TRM Televisione Radio del Mezzogiorno di Matera come valletta nella trasmissione Scoprifuoco condotta dal DJ Gigi Marziali. Successivamente torna in tv con Peppino Di Capri in Odeon e viene scelta da Luca De Filippo come protagonista della fiction Petrosinella, svolge anche una carriera di cantante. Lanciata da Corrado con la sigla Bang, del programma televisivo Grand Canal, come conduttrice, ha successivamente presentato Choo-in-Ki-Gum Show insieme a Maurizio Micheli, Night and Day, Chi tiriamo in ballo, il piacere dell'estate e sereno variabile. Dalla fine degli anni Ottanta si dedica con successo al teatro, dove finalmente può recitare in ruoli più impegnati. Dopo aver incassato un grande successo con la pièce di Sandro Maier Bivio d'Amore, nel 2004 partecipa alla seconda edizione dell'Isola dei Famosi, venendo eliminata nel corso della settima puntata con il 43% dei voti. Attualmente svolge l'attività di attrice teatrale e produttrice cinematografica. Dal 14 settembre 2010 conduce Borghi e Mestieri sul canale satellitare Leonardo. Sky, ha posato tutta nuda per diverse riviste erotiche tra le quali Playboy e Playman. Grazie a tutti.